E mentre la politica ennese si compatta sul caso policlinico, quella nissena come sempre è indifferente. Petizioni, mozioni in consiglio comunale, comunicati soccomunicati dei deputati ennesi, regionali e nazionali. E di nisseni non pervenuti. Qualche timida dichiarazione dei deputati da destra a sinistra e neanche tutti, giusto per dire non ne possiamo fare a meno e per il resto silenzio assoluto. Il sindaco Roberto Gambino e per onor di cronaca il deputato regionale Nuccio Di Paola, hanno tenuto alta l'attenzione, ma per il resto niente di niente. È storia antica che la politica locale a livello regionale e nazionale, tranne in alcuni casi, e soprattutto sotto campagna elettorale, si sia veramente occupata della città portando dei risultati. A dire il vero, anche il consiglio comunale, muto, un'unica uscita d'ordinanza dopo che il caso policlinico era scoppiato ed il vuoto. E se la maggioranza non fa quadrato attorno al primo cittadino, neanche l'opposizione critica, dibatte come se il conto non fosse loro, che rappresentano in fondo la città. Anche se la linea politica di Gambino dovesse sembrare una battaglia persa, eppure si esercita il ruolo di critica. La vicenda policlinico è complessa, sarà difficile da ottenere in breve tempo, e con il governo regionale che rema contro un risultato fattivo sarà difficile. Ma almeno, ed è quello che i più forse non hanno compreso, si è evitato che il Sant'Elia venisse defraudato di più di quanto lo sia già stato, oggetto di saccheggio continuo. Ed i deputati che ad ogni livello dovrebbero salire sulle barricate, invece se ne stanno al calduccio seduti sulle loro poltrone, pronti sicuramente a fare strali contro qualcuno se le cose non andranno per il giusto verso. Allora sì che si cercherà. Il responsabile di turno in quel momento saranno sicuramente tutti presenti.